Ancora ben trovati dalla redazione di Florence Multimedia e in studio Agnese Fedeli. Il traffico è il momento regolare sulla rete autostradale regionale e in FIPILI. Per le statali segnaliamo rallentamenti sull'Aurelia tra il pivio per San Vincenzo Sud e il pivio per Rio Torto in direzione di Roma. Ci spostiamo sulla statale 63 del Valico del Cerreto dove troviamo code per senso unico alternato all'altezza di Gassano. E ancora sulla Firenze-Siena a scambio di carreggiata per cantieri tra Monteligioni e Siena in direzione di Siena da quest'oggi al 25 febbraio. In chiusura per il traffico aereo in ritardo i voli Pisa-Bali delle 11.40 al momento segnalato in partenza alle 12.25 e Pisa-Trapani delle 12.55 segnalato in partenza alle 13.20. Muoversi in Toscana l'inferno servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!